In un mondo multietnico inevitabilmente siamo in tante, tutte diverse e ognuna con il suo fascino e la propria identità, ma è pur vero che tra queste alcune hanno un carisma irresistibile. Ne ho sentite dire di tutti i colori su di me, che sono armoniosa, dolce, piacevole, femminile, seducente. Perdonate la franchezza, ma so perfettamente di essere bella e di fare un effetto molto particolare sulla gente. Ammalio studenti e studiosi di tutto il mondo, scienziati, musicisti, designer, viaggiatori, chef, amanti dell'arte e della cultura. Tanti mi confessano che trasmetto loro il piacere della bellezza, altre dicono che sono molto musicale e regalo benessere con le mie vibrazioni. Sarà forse per questo che l'opera è nata nel mio paese? Sono una che lascia il segno e con orgoglio vi comunico che nella competizione mondiale sono arrivata quarta. Conosco gente di tutte le età che si avvicina a me per i motivi più diversi. Pensate che sono stata scelta anche dagli angeli del paradiso. Comunque mi presento. Io sono la lingua italiana. E voi cosa aspettate a studiarmi? Grazie. 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 Grazie.